ad ogni modo parliamo del today's perché il today's invece non ha la prerogativa di essere la risposta a qualcosa è un festival che esiste da diversi anni in maniera estremamente dignitosa e che giustamente sta ogni anno migliorando però purtroppo credo che non avrà più l'occasione per poter migliorare oppure diventerà qualcosa di diverso vi leggo la risposta del comune di torino attraverso l'assessore purchia che in realtà è la rosanna purchia che è la assessora si definisce assessora alla cultura del comune di torino con il sindaco che non mi ricordo come si chiama la giunta di adesso però questa è la risposta a marco galeasso che è uno degli organizzatori del today's gentile signor galeasso le sono grata per la sua email che mi dà modo imparate ragazzi imparate imparate perché non c'è mai un attacco diretto c'è sempre un paraculismo a 365 gradi c'è un paraculismo mostruoso dentro queste parole che smontano e distruggono e attaccano quando vogliono attaccare ma sempre dietro questa enorme parvenza di si te lo sto buttando in quel posto ma non sentirai nessun tipo di dolore ok certo manco piacere le sono grata per la sua email che mi dà modo di ribadire ulteriormente quanto ho già detto in occasioni istituzionali e nelle varie interviste rilasciate in questi giorni cosa vuol dire ho già detto mille volte vuoi che ti risponda vuoi che risponda anche a te rispondo anche a tema sappi che non è diverso da quello che ho detto pubblicamente fino ad oggi per prima cosa mi permetta di ringraziarla per l'attenzione e la considerazione che riserva al nostro today's festival è suo è del comune è vero è del comune tecnicamente è del comune solo che il comune non se ne è mai diciamo occupato da un punto di vista artistico e ovviamente se ne sono occupati altri grazie per l'attenzione e la considerazione che riserva al nostro today's festival grazie al caso direttore artistico sai com'è è il mio lavoro io lavoro al tuo progetto del quale tu te ne freghi e io no e che le assicuro è anche la nostra quindi la stessa attenzione e cura non è nello stile di questa amministrazione non dare riscontri a distanze e chiarimenti che ci vengono che ci vengano rivolti personalmente ho in questi giorni avuto modo di rispondere a diverse sollecitazioni avendo occasione di precisare alcune inesattezze del dibattito in corso praticamente dice ma avete rotto talmente tanto le palle con sta storia che ed eccomi qua che vi devo rispondere non è vero che non vi rispondo vi rispondo c'avevo altro da fare e comunque ci tengo a precisare delle inesattezze prima che poi il mio consenso comunque la mia immagine possa variare e quindi interviene esclusivamente nel momento in cui non può più non intervenire è chiaro hanno fatto ghosting per tutto il tempo adesso che sono costretti a intervenire intervengono per esempio questa amministrazione non ha mai pensato di chiudere two days come invece erroneamente riportato in diversi articoli di giornali al contrario l'intenzione è quella di rendere two days un festival di maggiore attrazione ed interesse tradotto avete fatto un lavoro carino fino adesso però non ci viene nessuno a questo cacchio di festival adesso lo trasformiamo in qualcosa dove vi viene un sacco di gente non avete lavorato bene un festival di maggiore attrazione ed interesse che accolga giovani talenti molto generico giovani talenti ma senza rinunciare ad artisti già affermati sulla scena musicale nazionale ed internazionale è quella parte nazionale che mi terrorizza di artisti già affermati prevedendo anche eventi gratuiti insieme a momenti musicali a pagamento capito cioè la gente deve entrare gratis pure hai capito ma con un costo in diminuzione per renderlo più alla portata di tutti insomma un festival che partendo dall'esperienza e dalla storia di two days sia maggiormente accessibile sia per gli artisti che per gli spettatori traduco che cosa vuol dire più accessibile per gli artisti e per gli spettatori gli spettatori del mainstream così come gli artisti del mainstream non trovano godimento nel two days che attira e lavora su una nicchia che chiaramente è molto precisa così come fanno tanti 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 festival anche se qualcuno ormai inizia a perdere dei colpi anche tra quelli storici perché proprio sbraga e abbraccia mainstream che non dovrebbe abbracciare però fondamentalmente è una linea coerente cioè invece che fare il fritto misto il two days giustamente fa un lavoro specifico su quel pubblico cercando di costruire un consenso più grande o comunque un punto di riferimento perché non bisogna sempre essere schievi dei numeri perché può essere che i numeri per il two days quei numeri siano più che sufficienti per dire che è stato un successo cioè non è che l'ipsig rock debba fare 800 milioni di persone per dire che è un festival che ha diritto di esistere semplicemente è un festival che per la sua nicchia e per quello che propone essendo una rassegna lavora su quel tipo di pubblico non ha nessun bisogno di allargare né artisti italiani di maggior respiro né tantomeno un pubblico che non c'entra niente con il mondo dell'alternative ok è il contrario di quello che faccio io che mando via chi non c'entra un cacchio con questo canale capite come siamo proprio agli antipodi c'è il mondo ufficiale è fatto è tarato in una maniera che è totalmente miope e non c'è rispetto delle nicchie quindi nessuna intenzione di cancellare two days e qui senti proprio il rumore la spatolata di vasella però c'è anche quel gracchiare quel grattare della sabbia capito che sta iniziando a cospargere nessuna intenzione di cancellare today si usa tante virgolette la signora la sua storia la sua professionalità ma al contrario c'è la volontà di farlo ulteriormente crescere snaturare non è rispettare la storia se tu snaturi non stai rispettando in nessuna maniera la storia tu stai rispettando soltanto la storia in termini di anni ma non in termini di linea e questa è una violenza che tu fai soprattutto se sei un assessore alla cultura creati un altro festival fai un'altra cosa non andare a toccare una cosa che già esiste funziona ed ha un pubblico ok la città proprietaria dell'evento qui un'altra pisciatina sul muro e anche degli spazi in cui si svolge ha intenzione di investire in una proposta musicale rafforzata occhio ragazzi soprattutto voi di torino non avendo la competenza e non essendo neppure tra le sue finalità istituzionali la direzione artistica di un festival questa amministrazione allora non essendo quindi scusami la direzione artistica qui del festival non ha competenza e non ha nemmeno tra le sue non ha tra le sue finalità istituzionali a no ok è il comune che non avendo la competenza e non essendo neppure tra le sue finalità istituzionali la direzione artistica di un festival questa amministrazione scusate avevo letto male ha chiesto la collaborazione di quanti hanno finora gestito l'evento a un certo punto sono arrivati hanno detto bella regà fino ad oggi me ne siete occupati voi adesso via ok noi vogliamo fare questa ci dai una mano a farlo volete partecipare se no noi tranquilli facciamo lo stesso ok vi snaturiamo vi cambiamo il festival e ci occupiamo di questo ha chiesto la collaborazione di quanti hanno finora gestito l'evento perché l'organizzazione è sempre restata in capo alla città attraverso la fondazione per la cultura di torino e ripiscia sul muro riconoscendone professionalità e competenza ma chiedendo la disponibilità a collaborare anche con altri operatori musicali per organizzare al meglio questo progetto non solo costi quattro sfigati del mondo india e del mondo alternativo mettiamoci qualche italiano facciamo lavorare anche gli altri scusate che poi non sanno dove suonare aspetta che mi sono perso per rispondere ad un principio di trasparenza cui invece siamo istituzionalmente tenuti la città ha individuato nel bando ad evidenza pubblica la formula che ponesse tutti i possibili candidati in condizioni di pari opportunità praticamente hanno fatto il bando hanno aperto hanno fatto il bando chi vince il bando si aggiudica il today's quindi di fatto vuoi collaborare vuoi fare il today's tu che l'hai fatto fino oggi partecipi democraticamente come tutti gli altri se te lo aggiudichi bene se non te lo aggiudichi te la pinda il culo saluti è nostro ciao hanno fatto il bando che schifo in questa fase si è inserita la mancata risposta al dottor gozzi che gialluca l'altro organizzatore si è inserita la mancata risposta al dottor gozzi quindi non gli ha risposto il comune e attenzione perché adesso c'è una super cazzola che è geniale a cui penso lei faccia riferimento quando parla di silenzio assoluto alle richieste di informazioni da parte degli organizzatori appassionati non abbiamo risposto perché c'è una procedura di bando in fase di predisposizione non ho ritenuto istituzionalmente formalmente corretto continuare un dialogo diretto con uno degli auspicati candidati se parlavo con te ti favorivo non posso farmi vedere che parlo con te devo essere neutro non posso parlare magari dire a questo soggetto che ci sarebbe stato un bando così evitava di comunicare con lei magari mi avvisi che me l'hai messo sul mercato e forse riesco anche a saperlo io smetto anche di cercarti esatto e con cui le interlocuzioni si sono interrotte solo a dicembre scorso a fronte di un dichiarato non interesse a partecipare a questo progetto posizione che mi auguro sia rivista cosa dice loro gli hanno detto vuoi fare il bando ti attacchi noi al bando non partecipiamo che è sto schifo giusto non fai il bando e hanno continuato a chiamarla per chiedere spiegazioni per dire no difendi quello che è un'istituzione qui dentro visto che parli tanto di istituzioni e quindi e lei ha detto io spero anche che ci ripensi a non voler partecipare al bando dai partecipate capito questa è di una paraculagine mostruosa sicché signor galeasso questa amministrazione si sta muovendo nella direzione opposta a quella della morte della cultura musicale altre virgolette da lei paventata non solo da lui vogliamo che la musica continui a suonare e a suonare più a lungo e a suonare dappertutto a torino bravo potevi fare un altro posto prendevi un altro posto e lo facevi facevi lì invece che rompere il cazzo a chi già esiste da anni per questo abbiamo bisogno di tutti per organizzare un today's che sia ancora più forte e vitale di prima anche e soprattutto del confronto con posizioni diverse dalle nostre che ci hanno forniti utili spunti di riflessioni le sono quindi davvero grata per la sua comunicazione e confido di aver ulteriormente chiarito la nostra posizione la saluto con cordialità rosanna purchia assessore politiche culturali di della città di torino ragazzi questa è una cosa folle indegna è indegna quello che hanno fatto è indegno e il fatto che ci sia questa impunità nel e questa arroganza questa spocchia nel sputartelo in faccia nel metterti alla porta senza alcun rispetto per quello che è stato il lavoro noi non rispettiamo il lavoro noi non rispettiamo il lavoro perché non conosciamo il lavoro e quindi non possiamo rispettare il lavoro di chi butta il sangue per costruire qualcosa è come se domani arrivasse uno a rilevare questo canale con un bando a certo punto twitch mi fa sapere no guarda abbiamo fatto un bando per il tuo canale a che senso un bando sì se vuoi partecipare d'altronde ci sei anche tu e io dico no quel cazzo che partecipa un bando questo è il mio canale l'ho costruito io in anni e ma noi vogliamo che ci sia un po musicativa un po aprire è un pochettino anche altro pubblico dai non vogliamo fare soltanto quella roba che fai tu per pochi vogliamo allargare capito d'altronde è nostro il tuo canale sono twitch però per mesi io ti ho chiesto spiegazioni e tu non mi hai risposto perché ho detto ma scusa ma io ho buttato il sangue scusa non ti sento non posso parlare con te perché altrimenti sembra che ti sto favorendo questo è quello che è successo scusate se ho usato una metafora l'ho usata con questo canale ma era proprio per rendere ancora più chiaro l'orrore di questa roba qui fa schifo fa schifo ricordatevene alle urne bisogna iniziare a votare bene ragazzi iniziare a votare bene con meno superficialità perché sono certo che tra i tanti inculati del today's ci sono indubbiamente persone che questa amministrazione questa giunta hanno votato andavate armare era meglio ok gli atti di come dire protesta partono da quello che abbiamo a disposizione non abbiamo molto a disposizione perché o la popolazione di torino si sente offesa da questa roba ma siccome questa cosa qui viene percepita soltanto come un problema locale o anzi neanche locale un problema marginale cioè ok ma chi cazzo se ne frega di quelli che seguono l'alternative che vogliono andare al today's penseranno quelli della popolazione di torino quindi questo caso non diventa un manifesto di un usurpazione di un di una prepotenza da parte dell'amministrazione nei confronti di cittadini che hanno gestito per il comune per anni quello che il comune in torino avrebbe dovuto fare e ne hanno fatto la direzione artistica ne hanno fatto il proprio lavoro nessuno scenderà in piazza per questa cosa nessuno parlerà perché in teoria essere come dire politicamente attivi vorrebbe dire questa cosa fa schifo e anche se non mi tocca perché io al today's non ci sarei mai andato non mi interessa perché non è il mio pubblico perché non è il mio genere musicale e non è esattamente il mio tipo d'evento trovo scandaloso quello che è successo il problema è trovare i comportamenti che sono scandalosi non il contesto che è la scusa per voltarsi dall'altra parte purtroppo ci voltiamo dall'altra parte perché adesso ci sarà l'indignazione come al solito ci saranno quelli che madonna che schifo che notizia tra l'altro il video che feci su youtube la scorsa settimana sul today's ovviamente è il meno visto di tutti proprio perché non c'è uno straccio di consapevolezza non c'è uno straccio di voglia di essere cacchio un minimo soggetti attivi nella nostra vita anche per cose che non riguardano noi stessi è una notizia molto triste ve la dovevo chiesto il permesso di poterla leggere mi è stato accordato e questa è la situazione pubblicherò ovviamente tutto questo anche su youtube sperando magari di intercettare questa volta un pizzico di sensibilità in più perché di questo si tratta si tratta di sensibilità la politica è anche questo è anche sensibilità